Lo sai che esiste una pratica diffusa nell'industria bancaria che potrebbe aver ingannato gli investitori per anni? Si tratta dell'utilizzo di indici price return come termine di paragone per i fondi comuni di investimento. Oggi approfondisco la differenza tra un benchmark price return e un benchmark total return. Questo lo faccio perché in determinate circostanze la banca potrebbe non aver lavorato nel tuo esclusivo interesse. Ciao, sono Simone Anselmi, analista finanziario dei mercati presso Piano Finanziario. Se non ci conosci già, siamo una società di formazione e di consulenza finanziaria indipendente e alla data di registrazione di questo video gestiamo un patrimonio complessivo dei nostri clienti in consulenza di circa 50 milioni di euro. Prima di approfondire quelle che sono le differenze tra i due indici, è molto importante capire il ruolo e che cos'è un benchmark. Un benchmark è un parametro che viene utilizzato per valutare in termini relativi una performance di un investimento oppure di una strategia che viene utilizzata. È molto importante confrontare la performance di un investimento non in termini assoluti e guardare semplicemente se ha fatto un buon rendimento o un cattivo rendimento, ma è molto importante cercare di capire quello che è il rendimento in termini relativi, quindi andare a confrontare il rendimento di un determinato investimento con il relativo benchmark. Il relativo benchmark deve essere il più sensato possibile, non ha senso andare a confrontare quello che è il rendimento di un'azione singola italiana con l'S&P 500, perché si sta parlando di due investimenti completamente diversi. Se si vuole prendere come riferimento un'azione singola nel mercato italiano, si dovrà confrontare con quello che è il Fuzi Mib e per esempio non con l'S&P 500. Questo serve ad avere un confronto il più possibile sensato nel momento in cui si va a verificare quella che è stata la performance di uno strumento o una strategia. Dopo aver capito che cos'è un benchmark, è importante capire quali siano le differenze tra i diversi benchmark, principalmente oggi andiamo ad approfondire la differenza tra il price return e il total return. Un benchmark price return prende in considerazione solo le variazioni di prezzo delle aziende sottostanti. Per esempio, se andiamo a considerare l'S&P 500, che è il benchmark relativo alle 500 aziende più capitalizzate d'America, il benchmark price return aumenta nel momento in cui aumentano i prezzi delle aziende all'interno che fanno parte dell'S&P 500. Quindi l'unico motivo per cui aumenta o diminuisce il benchmark, quindi cresce o si riduce il benchmark, è l'aumento o la riduzione dei prezzi delle aziende sottostante che compongono questo stesso benchmark. La differenza con il benchmark total return è che la variazione percentuale e quindi la performance del benchmark non viene calcolata solamente tenendo in considerazione il prezzo delle aziende sottostanti, ma oltre al prezzo viene considerato anche l'interesse che viene maturato dalle aziende e gli eventuali dividendi. Ti piacciono i nostri contenuti? Ma non hai mai avuto il coraggio di contattarci? Siamo una società di consulenza e formazione finanziaria. Prenota un appuntamento conoscitivo gratuito con un tutor di Piano Finanziario. Prenota ora su pianofinanziario.it slash informazioni. Come puoi vedere a schermo ho riportato quelle che sono le differenze a livello di formula del benchmark total return e price return. Partiamo dal primo dei due che come puoi vedere prende in considerazione il prezzo finale e il prezzo iniziale. Il calcolo della variazione percentuale è il prezzo finale meno il prezzo iniziale diviso il prezzo iniziale. Tutto moltiplicato per 100. La grande differenza con il total return è che il total return prende in considerazione oltre al prezzo finale anche i dividendi. La differenza come puoi immaginare a livello di performance è estremamente rilevante. La performance del rendimento dal 1985 al 2024 dell'S&P 500 sia prendendo in considerazione solo il prezzo delle aziende sia prendendo in considerazione anche gli eventuali dividendi. Si può facilmente notare come l'indice price return è nettamente inferiore rispetto all'indice total return. Quindi come si può notare dal grafico la differenza tra i due benchmark è sostanziale. Questo perché lo analizziamo e lo approfondiamo in questo modo. E perché la banca potrebbe averti ingannato? Questo lo diciamo perché probabilmente in determinate circostanze il fondo comune di investimento viene confrontato con un benchmark price return. Di conseguenza come avrai capito confrontare uno strumento o un fondo comune di investimento con un benchmark price return potrebbe essere forviante. Perché nel momento in cui viene fatto vedere ad un investitore che magari non è più di tanto esperto che un determinato fondo che magari cerca di battere l'S&P 500 ha battuto effettivamente il benchmark dell'S&P 500. Però il benchmark price return è senza dubbio fuorviante perché nel momento in cui questo stesso fondo venisse invece confrontato con un benchmark sempre dell'S&P 500 senza dover per forza andare a cambiare mercato. Però l'indice total return allora in questo caso probabilmente la performance del fondo sarebbe stata sicuramente inferiore rispetto a quello che è il benchmark. Questo viene utilizzato magari in determinate situazioni nel momento in cui si vuole far risaltare la performance di un fondo confrontandola con qualcosa che non prende in considerazione i dividendi e di conseguenza non prende in considerazione l'effettiva performance che ha ottenuto quello stesso benchmark. Quindi è molto importante stare attenti nel momento in cui si vanno a guardare i fondi comuni di investimento ma in generale di tutti gli strumenti finanziari anche magari di gestione patrimoniali nel momento in cui si va a guardare la performance dello strumento e poi si va a vedere la performance del benchmark. Anzi spesso il benchmark non è neanche dichiarato se sia price o total return e questo è già un campanello di allarme che dovrebbe farci ragionare sull'effettiva trasparenza del fondo o dell'investimento che stiamo per andare ad effettuare. Quindi è una valutazione da fare prima di investire e non a posteriori. Quale può essere la soluzione? La soluzione in questo caso potrebbe essere quella a livello legislativo di imporre ai fondi comuni di investimento, alle gestioni patrimoniali, a ogni strumento che viene utilizzato nei mercati finanziari di utilizzare un benchmark che sia total return. Questo per avere un confronto equo tra tutti gli strumenti presenti sul mercato perché se no nel momento in cui si hanno delle differenze a livello di calcolo di benchmark si possono ottenere delle informazioni che sono appunto fuorvianti, a volte in positivo, a volte in negativo. Probabilmente questo video sotto un certo punto di vista potrebbe essere stato un po' tecnico. Nel caso in cui non avessi avuto alcuna difficoltà a seguirlo oppure questi concetti li conoscevi già potresti continuare a fare queste valutazioni in autonomia ponendo maggiore attenzione magari su quelle che sono le differenze tra le diverse tipologie di benchmark. Se invece non sai fare queste valutazioni e magari avresti bisogno di qualcuno che possa darti una mano a fare queste valutazioni, prenota un appuntamento con un nostro esperto di piano finanziario contattandoci tramite il link pianofinanziario.it slash informazioni. Ciao e ci vediamo al prossimo video.